non basta ci vuole la lotta all'evasione anche qui continuiamo a litigare sulla soglia del contante io sono perché in questo paese visto che ci dobbiamo modernizzare faremo le app per controllare gli spostamenti di tutti per la sicurezza e la modernizzazione può anche anche in questo caso essere un'occasione molto delicata ma un'occasione vogliamo dire che aboliamo il contante prima o poi in Italia e forse una bella botta ai 110 miliardi di evasione all'anno gliele diamo io la penso come Graziano questo Graziano lo possiamo fare fin dal decreto imprese liquidità nessun aiuto alle imprese italiane che hanno sede fiscale all'estero naturalmente cominciamo da FCA cioè non da cose piccole io la penso come te facciamolo poi avanzo un'altra proposta discutiamo di come farla però perché poi ci mancano eh lo so però io penso che bisogna dirla così capisci eh perché non immaginiamo una proposta di legge che introduca io la chiamo adesso non abbiamo ancora lo strumento legislativo ma te la butto lì no? l'etichetta fiscale io per esempio quando compro un prodotto oltre che sapere dov'è prodotta quella cosa specialmente se ha a che fare con la filiera agroalimentare secondo quali parametri mi piacerebbe anche sapere l'azienda che la commercializza che la produce dove paga le tasse in che misura lo possiamo fare perché magari se fosse ben visibile quando qualcuno va al supermercato può anche scegliere che compra quel prodotto fatto da un'azienda che paga le tasse in Italia lo potremmo spiegare anche campioni del prima ma gli italiani no? Che stanno sempre lì a fare i nazionalisti e poi come abbiamo visto sul report di ieri sera stanno ammanicati con tutte organizzazioni sparse in giro per il mondo che con l'interesse italiano non c'hanno nulla a che vedere ecco grazie a tutti grazie a tutti